. 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 Giàr, giallandaro! Sottotitolo, neri, neri, sottotitolo! Giàr, giallandaro, darvata bantaro, darvata bantaro! Molto, molto, molto! Ravi! Ravi, che è che? опosti il Ahahahah! Né dardardar pranankosso un'un dardardar la riporto nami? Pranankantè pavitramayana manankosso un'paritapistu. Nekra prananschagandese la punyestrèlannu burinche uokkasale nalocincheva. Gavassura! No, non ci sono. Poi, non ci sono. Sì, non ci sono. Sì, non ci sono. Non ci sono riconoscire alla vostra. No, non ci sono. No, 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 no! C'è il nostro fuoco che non preghi. Non ci sono così. Non ci sono? Sì, non ci sono. Sì, non ciò di nuovo. Non ci sono e di nuovo. Ma non ci sono. ... Grazie a tutti.